Eppure egli ebbe avuto, tra i suoi antenati, un re il cui nome era Hersir, quest'ultimo fu il re Annaumudalar. Sua moglie si chiamava Vigda e il fiume Annaumudalar porta al cuore il suo nome. Quando lei morì, Hersir soffrì così tanto da desiderare di uccidersi, ma lo avrebbe fatto solo nel caso si fosse trovato l'esempio di un re che lo avesse fatto in passato. Si scoprì che uno Jarl ebbe fatto così, ma mai un re. Andò quindi in cima a un tumulo e rotolò giù, dicendo che in tal modo era rotolato via dalla regalità. Dopodiché si impiccò come un normale Jarl. Per tale motivo i suoi discendenti non avrebbero mai preso la carica di re. La verità di ciò può essere ascoltata nella Leighetal, composta da Evendur. che fu chiamato Scaldauspiettler.